Provo una sensazione di vera felicità, Kate Walker Le stanno molto bene Lei è molto gentile, Kate Walker Mi rincresce dover prendere congedo da lei Dove va? Devo raggiungere la locomotiva La partenza del treno è imminente La partenza del treno è imminente La partenza del treno è imminente Questa porta è chiusa a chiave, eppure devo entrare La partenza del treno è imminente 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 Grazie a tutti. 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 Tu disegni Mammut per Momo. Sei tu, Momo. Mi hai spaventata. Cosa ci fai tu qui? Momo vuole disegno di Mammut come quello di Hans. Mi spiace, ma non ho con me disegni di Mammut. Tu prendere carta, matita e disegnare Mammut per Momo. Beh, non ti arrendi certo facilmente. Momo, devo andare adesso. Magari... Magari... Buon anno. Magari. Magari. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Grazie, Momo contento. Ora, segui Momo. Momo svela segreto a Kate. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, 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 sì. 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 Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì.